Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news, nuovo video di aggiornamenti sul mondo dei videogiochi. Bene, la Treyarch, la famosa software house sviluppatrice di Call of Duty Black Ops 3, ha annunciato a sorpresa sul suo profilo ufficiale Twitter l'arrivo dei punti doppi sul suo nuovo sparatutto, appunto, Call of Duty Black Ops 3. I punti doppi saranno disponibili per la prima volta da quando è uscito il gioco e li potremo trovare sia nella modalità multiplayer che in quella zombies. Questa iniziativa sarà valida a partire da domani, 19 novembre, fino a lunedì, 23 novembre, su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per PlayStation 3 e Xbox 360, invece, ancora non è stata annunciata una data per i punti doppi. Fatemi sapere nei commenti del forum a che prestigio siete e a che prestigio arriverete lunedì, 23 novembre, così vediamo un po' se riuscite a prestigiare velocemente. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale. Grazie. Grazie.